Bancomat, questo sconosciuto, di Luna 25. La risposta della banca mi lasciò impietrita. Le carte erano state bloccate. Se mi fossi immersa in quel momento, nelle fredde acque della Scandinavia avrei sentito meno freddo. Replicai a voce alterata che non poteva essere così assolutamente impossibile, ma furono secchi nella loro risposta. Secchi ma fottutamente precisi, seppi che era stato lui a bloccare tutto. Perché? Che accidenti stava accadendo? È vero che nel passato non avevo mai avuto un mio Bancomat e usavo il suo. È vero anche che non avevo un vero lavoro, ma mi ero sempre occupata della casa. Avevo cresciuto i nostri figli da sola, senza tate o nonne o zie vicine, senza lui, sempre impegnato col lavoro. Dopo molte insistenze mie e dei ragazzi, ammise finalmente ciò che aveva fatto. Ci aveva lasciato col sedere a terra, volontariamente. La violenza economica esiste e io l'ho subita.